Vediamo se qualcuno si accetta di giocare a pazzo Forse a pazzo no, vediamo un po' normale Guarda, guarda, è chi dove è essa? Come si combatte? Come se ne vai? Come se ne vai? Come se ne vai? Come se ne vai? Chi è? Sei benvenuto nella seconda bossa di gioco Sì sì, il primo Eh, non ti è ucciso già Come usi le monotov? Cosa ti ho detto di salire le scale? Non ti ho detto niente io Andrà dritto, chiama la campana? Mi faccio una bella ordina qui Vuoi dei gingini fuori? Che li vendo io? Ma vaffanculo va Non è un'altra, pure io lo penso Ah, io lo penso qua, dì? No, è questa che l'ho fatta Cambiamo zona No, devi farla prima del boss Lo devi chiamare Così è bellissimo Però ricordati di cancellare password e di mettere mondo Eh sì, per forza O provi ad ammazzarlo o pure muori Dove sono le cose? Buona fortuna al giro Per chi si fosse sintonizzato Io sto facendo l'orda su questo gioco E lui è su Bloodborne Uscendo pazzo per fare i boss Come piace a lui Si sentite proprio la rabbia Ma tu hai ancora in versione normale o in trasformato? Buona fortuna Buona fortuna No dai, io almeno a metà vita La prima volta l'avevo quasi shottato Anche in versione trasformata Enzo è carry on La prima volta Il problema è stato poi Che poi mi sono reso conto Che salta andava un po' troppo Che salta andava un po' troppo Bisogna di una piccola mano E tu Ce la puoi fare comunque Anche quello non è un boss a base complicato Ma alla fine nessun boss è complicato No, eh, questa è la cosa più frustrante Di quel tipo di gioco Quanto che non puoi mettere pausa Purtroppo sì, è così Se succede qualcosa tu devi abbandonare E devi Dove forno? Andi vedo l'arrivo Eccolo qua Ma se tu pure c'è la pistola Lo stesso si potrebbe dire lui E lui ti dice Non è problema mio Tu mi vuoi affrontare E lui ti risponde Non è problema mio Sei la pistola di merda Va a cadere la bomba Non è problema mio Grazie a tutti. 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 Vai così. Grazie a tutti. 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 R7. No. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. a tutti. No. Vittorio. grazie a tutti. a tutti. no. domani. c'era. controllano di nuovo in casa o riavviano provi, provi anche riavvianne provi, riavvieni tante volte, sento magari dentro di un ciseo facendo la cosa come? come? Siamo più forti, ho sentito poco cubato E qui? A mezzo ho sentito Sìììì, conosco il militario. non è fai vero devo fare di più basta bisogno io ero e dovrei andare passare di chi mi ha toccato speriamo che ci sia buona di aiuto che figana da come è scompiato questo è uno con i capelli bianchi dai possiamo ancora farcelo grandi in 2 in 3 ormai è una cagata in 3 ma che c'è? mi ha dato dal culo io ho usato la maspelle con l'accento hanno vinto gli zombie ma chi se ne frega hanno vinto gli zombie ma chi se ne frega voglio cambiare modalità adesso si cambia modalità alla fine sai che ho optato per una cosa? adesso su youtube ho creato una playlist dove metto tutti i video, tutte le live, tutte le cose dove io parlo e cose così insieme a voi te, da Marco e tutti gli altri poi ci sono i gameplay quindi praticamente quelli sani senza modi, senza bordelli, scherzi e cazzo e manzo più di gameplay vedi che cazzone meglio di così proprio si moda si si infatti non mi fa un cagare perché? è buonissima supremazia erbosa in questo giro eh vaffanculo del gran bro ora vi ammazzo a tutti vai che cazzo c'è qualcuno che ho potenziato di cuore che potrebbe livellare usiamo masterchef va si perchè gli ho messo un cappello da cuovo ha tintato tipo la faccia fatta a formaggio e come occhiali c'ha due fette di formaggio io lo chiamo masterchef che è quello che congena è quello che brucia c'è una coppia d'aiutella cosa lasciamo farcela? ah bene, io ci spero mi issuedoouble ayo, nonu, noni bisogno di eserci vai a giusti nono, nono ma nono ah man ma nono Ma lo sapevo, non va a fare un fronzo questo. E poi è morto. Con 7% di vita mi ha ucciso. Niente, abbiamo perso il posto. Che è scritto? Alla prossima. 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 oh E' un po' di più lol vai continua a lanciarmi i porcheri dalla sola nooo si dai dai si non ci vedo ma mi ha preso stranamente benissimo mi ha preso non ci fanno abbinare anche perchè siamo in minoranza non voglio togliere la spada del mio fuoco mi serve a farlo no 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 E' attivato la spilla Ah buono, buono Ora quella la devi portare nella bambina Gli devi parlare però Vai, lo uccido Dai dai possiamo farcela ancora, dai Oh non muore eh? E' morto proprio alla fine Orca broia 3 a 3 7% di vida infatti Ma non ce la facciamo Ah ora sono vedute le persone Cazzo E beh niente Dobbiamo provare dai Ma si possono fare i tornei su playstation Tipo una roba del genere Non so, tutto è la playstation Non posso spiegare il che tipo Tornei dedicati alla playstation Che tipo crei il torneo con la playstation Non dentro il gioco Con lo store della playstation Con l'unico uso della playstation Ma ho capito, ho capito Andiamo a sottolineare un'altra mappa Perché questa qua è piena di poche persone Devi... Devi sentire dove vai nelle fogne Poi ci sono le scale Devi sempre salire Ci sono due scale Una che ti fa salire Ti fa risalire Un'altra ancora Che ti fa salire ancora un po' Poi ti fa giri il ponte Provi un gigante Ammazzi il gigante Salì la scale E te lo dà la bambina E' una storia vincente Con le mani Vabbè dovevo dirlo Cosa cosa Pampana 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 Eh ma vedi che proprio Io c'è una spada giusto Un tipo di spada Che tu Praticamente Con sta spada che fai Prendi E gliela infili Proprio nel culo Nel maiale Sì sì Nel buchino Se vuoi ti faccio vedere Un video E così rimani Capisci Quello che voglio dire Però Ci sono un bordello Di spoiler In sto video Non te ne frega niente No non ce l'ho Però ce l'ho Perché nel mio canale Ce l'ho Ti faccio vedere Sta cosa qua Tanto alla fine Li vedrai comunque I boss Non capirai Come li dovrei uccidere Perché sono piccole azioni Quindi Io amo questa cosa Questa spada semi Sì sì un attimo Intanto che Ora parto con la missione Eh si è sbagliato Vuol dire che è sbagliato Un secondo Ora ti faccio Ah tu lo sta dicendo Lo sta dicendo lui Ragazzi No mi si è spenta la cosa Non ci sono neanche tutti i boss In questo video Perché Metterli tutti È davvero Un'impresa Che non ho fatto niente Fidio la partita Ok Ora vado Non dice non tu Quindi mi hai mandato a cagare Quindi mi hai mandato a cagare Ma stronzone Te l'ho mandato Io me lo sto guardando ora Ho avuto 53 visualizzazioni In sto video Due anni fa Sì infatti A dicembre Possiamo dire un anno e mezzo fa Quasi Perché a dicembre Mi ricordo che l'ho preso con te Io Bloodborne Quindi L'ho preso tipo Mi pare che era ottobre Quando sei venuto Novembre Novembre Che anno Che quando era Quando sei venuto tu Prima No l'anno scorso Non quest'anno L'anno prima Ma era tipo novembre Era bravo Quindi manco Manco tipo Due anni Che c'ho Bloodborne Due anni Li fa Novembre Questo novembre Vado che precisione Cirurgica Proprio Uiii Ma se c'è Fincoming Che c'ho fatto da Che c'ho fatto da Bloodborne Dark Soul Che si curano in modi diversi Mi stavo rincognendo Siamo amico Frizzi Super Nation Buono dai Super Nation Ma non è che stavano conquistando B Andiamo da B Mi fai sembrare un mo' Fitto Ma dovevo voglia di Ora ho voglia di Cosa Che non è che ne si fa Non ho messo Ma magari facessero Un'altra serie Rispettando però Quello che era Perché le uniche Dificone Non era proprio fatto Per i bambini Secondo me C'era C'era violenza C'era violenza Paura Terrore E' vero veramente Guarda L'unico che veramente Non mi aveva mai fatto Non mi ha fatto buona In tutto leone di cani Qui è stato il barbiero No Non mi ha metto niente Poi non lo so Se fa qualcosa Altra Se non gli dettagli Sarà bene Io ti direi Di non darti Di non dargliela A questo punto Che la mita Io l'ho fatto Perché volevo fare La seconda scelta La mia prima scelta Che mi hanno consigliato Bastardi Era di Non vado Voleva Ancora può? Un po' più Faccio Tutti l'arri Mi ha mortato Una buona buona Si sa Ma non Drogassette Adesso In certe puntate Giustino Mi piaceva pena In altra Lo chiamo La motina Non ho capito Non ho capito Non lo so E questo Non mi ha anche guardato Perché sto facendo La partita Con uno di vita Sono sopravvissuto Con uno di vita Io ballevo Il finale Non ho capito Il finale Non guardato Ok Ti spoiler Uno Di finale Ho messo anche Un pezzo Del finale Capito? Un pezzo Un pezzo Un pezzo Un pezzo Ah pure è morta! Questa è la mia beta Spaccagli il culo! Spaccagli il culo! Non siete più il cazzo! Non mi vedo! Non è nato fanno così! Allora via dietro non ci pareva mai! Non ci pareva! Oh! 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 Bravi prendiamo un B di nuovo! Oh! 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 Non credo! È morto! Non credo! Chi do 2? Bastardo! Con una di vita! Bastardo! Ci siamo concentrati troppo su alfa e poco su beta Che è più bella più su beta che su alfa Affanculo! Bastarda beta è bastarda alfa! Ecco E balleggiamo eh! Caccia caccia! E' un po' di merda che sta prendendo! Non viene nessuno! Non venire! Non venire! Non venire tu! Incazzano! No! E' un po' di merda! 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 Io non gliel'ho data! E' un po' di merda! Che stavolta è per... C'è gliel'ho data! Gliel'ho data! non mi guardo un attimo il mio video non lo posso ripetere ma dopo questi qui quindi è un peccato che ho perso i dati per colpa di quel bug sei andato alla chiesa e quella è importante giusto che potevano mettere più mappe però non ho usato molto il chicco di mais hanno capito ti sei informato di più sul gioco ci sono un sacco di cose da fare comunque da seguire si l'ho ucciso adesso sono anche di prima che fallo però non è morto non abbiamo le rose perché non usano le rose non è morto 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 Questa è fatta. Ma il mio portale lo potresti anche usare, se no non si, ma c'è del tipo, ma a che serve questo portale, a un cazzo. Questa è fatta. 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 Ah è ancora? Che cazzo che mi sto attaccando? Cosa hai? Puoi anche cambiare gli scarpe tu, cioè il modello di sotto ti lo puoi cambiare, poi che cazzo di vestiti li hai messo scusami, ora sono curioso, perché mi hai detto che hai cambiato vestiti prima Ok, c'era un altro site che ne ho detto che non mi ricordo Dai che gli sto demora prendo il culo, dai Ma quando mai? Ah si, io penso pure fra poco Domani che fai quindi? Non ho capito, ma quindi domani dobbiamo giocare insieme Spiegami Mi ho detto conibara là Ma domani esce qualcosa, scusa, qualcosa volete pullare E perché, scusa, voleva pullare? No, perché Cioè, io sto raccogliendo le sconde, sono 43 Mi pare tipo una multi così, e via Capito? Vabbè dai, magari tu ci stupisci, finora ci hai stupito Dico, certo, non hai trovato Vegette Blu, non hai trovato altri personaggi che sono usciti in queste baci, però Gokui ce l'hai, hai trovato Gokui? Allora, dico, visto che le cose le trovi Mi mancava poche cose, poi c'è pochi personaggi, diciamo Di quelli nazi, però tu sei trovato, ti manco sugli eletto, dico, è inutile demoralizzarsi No Quanto è stona in questo momento Ma come cazzo fai a fare tutte le stesse stoni, scusami Sta manca sta maniera Ah, eh, minchia, però 85 Scusa, io ne ho fatte 43 ore in questi perché ne davano a pochi di 5 Se no manco per il crack Però ne hai, però ne hai spesi più di me Eh, cosa dico, però hai speso più di me Vabbè dai, ci sta dai, ma alla fine sono, mi hai speso capitale Sì, ma io parlo proprio di più soldi, quella gente che ha preso, eh, in due anni Mi parlo proprio di gente, vabbè la gente si incasserebbe quella di primi che ha preso 100 euro in due anni, cazzo Io comunque spero ci avrei panciato per due giorni, in un buon ristorante, questo ci direbbe Ma si scherza, si scherza, beh Devo cambiare personaggio comunque Sì, la gente lo sai con me, parlerebbe comunque, ma alla fine, che te ne frega Io ho speso un bordello di soldi su LOL in 5 anni Questo dovrei dire Come tutti quelli che conosco tra l'altro, perché tutti hanno speso almeno più di 200-300 euro su LOL Ma qua non parliamo di due anni, qua parliamo di 5 anni, 5-6 anni Vabbè, ci sta LOL l'ho iniziato però Ho conosciuto gente che ne ha speso in 3.000, 4.000 La fior di soldi eh ma... avete... avete... che ne ho trovato, oltre tapio non l'ha, che cazzo ne ho trovato, niente e poi vedo gente che prende le merda basta come l'ho non spero di normale Eh, sì, è proprio un nuovo riuscito. Ma chi è? Chi erano? Qual è la sessione del drone? Non lo so. Vabbè, dov'è? Sì, ma solo l'uvero. E poi fare le sue metalli è un vero. Non c'è nello parlo, possiamo vedere. Scusami, è una merda quel cazzo di coso, dai. Difficile per un personaggio diminutivo. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Formati, è fine. Guarda che camp è mega, questo qua. Ma che figo c'è gli occhiali con le patate quelle rare, le stiche. Guarda se le ristiche, non bricchè. Quanto lanza? Guarda la scena di scena di scena. Guarda la scena di scena di scena. Guarda la scena di scena di scena di scena di scena di scena di scena. voglio vedere se abbiamo vinto questa partita attenzione no ho vinto la partita totalmente noi come pianta li abbiamo usati tutti ne ho finito tutta la mappa forse posso aprire il pacchetto e posso chiudere e chiudiamo insieme speriamo che i soldi mi sono bastati si dai apri il pacchetto e chiudo è un pacchetto questo pacchetto mi da un personaggio sicuro in modo ma cosa che gli doccano ebbè dai ci sta chi è la prima è bello quel gioco scusami eh no che schifo è scusa ok sto prendendo il pacco speriamo bene no che schifo mi è uscito uno di quei pezzi di sterco 10-20 ne danno ma che cosa metto in questa baccia vegetale di nuovo ah ma il vuolo leader dove si è super saia dici si si manda manda io trovo il neturbino allora esteticamente mi piace un sacco il cazzo di bisogno è tutto buttito dietro io adoro queste cose però ha la faccia da culo cioè gli insetti ci sta un botto così non lo lascio così è fighissimo l'arma invece l'arma standard vediamo come spara ma vediamo la sua descrizione qualcosa come spara tutto poi la giù con la descrizione vediamo sebbè tipo vediamo dove arriva il corpo quello di vocale o va dritto guarda il fatto che è lentissimo spara il suo lancio a spazzatura tossico infige danni tossici nel tempo ah simpatica come cosa dai quindi è uno di quei personaggi con la roba tossica capisci qua questo pure è quello che ha dorato di più dato che ora abbiamo quello lì io questo lo modifico vediamo qualcosa vediamo un po' lascio questo quindi abbiamo l'ingegnere il meccanico l'imbianchino lo zifonico e il peritone turbino mi chiedo uno di questi qua uno di questi qua eroi tipo forca miseria capitan morso di squalo mantieni lascio lo zoom per pensare per passare da uno squalo affamato a un laser ma rollo ma rollo va bene va dai ma intanto io chiudo la live aspetta scusa un attimo e via ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti